Per evitare il mal di testa, abbassa la testa. Nella vita o ti focalizzi sulla vera ragione e quindi a scontrare la tua capoccia con qualcun altro, quel qualcun altro potrebbero essere i tuoi genitori, i tuoi figli, i tuoi insegnanti, tua moglie, tuo marito, gli amici, colleghi, il mondo. Quindi o ti preoccupi di avere ragione oppure abbassi il capo e metti da parte l'ego.